Buongiorno a tutti amici e bentornati qui in compagnia del vostro Emanuele per una nuova video recensione. In un periodo storico come quello che stiamo, ahimè, vivendo in questo momento, ovvero di pandemia, abbiamo visto nascere a livello tecnologico tantissimi dispositivi, soprattutto indossabili, che permettono e promettono di andare a misurare il cosiddetto SPO2, ovvero il valore dell'ossigenazione nel sangue. E non starò qui a dilungarmi sull'importanza di questo valore, ma sicuramente questo è uno dei tanti valori, dei tanti indici che ci permettono di andare a capire se siamo in salute o meno. A questo si affianca senz'altro la temperatura e quindi, oltre al vostro indossabile, perché non utilizzare proprio lo smartphone? E come fare? Beh, con il nuovo UmiDigi A9, che dalla sua integra proprio un sensore a infrarossi che vi permetterà di andare a misurare la temperatura corporea. E quindi vi spiego come va lui e soprattutto questo sensore all'interno di questa recensione, subito dopo la sigla. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e cliccare sulla campanella per non perdere le notifiche dei video futuri che verranno. E soprattutto di fare un giretto sul mio canale Telegram, dove quasi quotidianamente pubblico le migliori offerte del panorama tecnologico. E fatta la marchetta del caso, direi di non perdere tempo e cominciare con la recensione dell'UmiDigi A9. E nonostante la natura economica dell'UmiDigi A9, questo smartphone si distingue proprio per questa funzionalità, ovvero la possibilità di andare a misurare la temperatura corporea tramite un sensore a infrarossi integrato qui nel blocco fotocamera. Ma, visto che lui è uno smartphone, direi di partire nella maniera solita, ovvero analizzandone il design, che tutto sommato è piuttosto piacevole e soprattutto si tiene molto molto bene in mano, perché questo è realizzato completamente in policarbonato, ma con un design sul posteriore di tipo unibody 3D, che integra una texture anti-impronta. Infatti abbiamo proprio una texture zigrinata che non trattiene per nulla lo sporco e le impronte e soprattutto ne aumenta il grip con lo smartphone. Questo perché abbiamo comunque un dispositivo dalle dimensioni e peso piuttosto generose. Abbiamo infatti una dimensione pari a 164 x 77,14 x 9,45 mm di spessore ed un peso di 204 grammi. Ad ogni modo in confezione trovate oltre alla classica dotazione, quindi il cavetto di tipo C per la ricarica e l'alimentatore con uscita da 10 watt, abbiamo anche una cover di protezione che aumenterà ulteriormente il grip e soprattutto preserverà il dispositivo da eventuali graffi e urti in generale. Quindi una scocca che è un corpo unico, dove sul profilo superiore abbiamo l'inserimento di un jack da 3,5 mm per sfruttare i vostri auricolari preferiti, cosa da non sottovalutare soprattutto nella fascia economica. Sul profilo destro invece abbiamo il consueto tasto di accensione bilanciere del volume, mentre specularmente abbiamo lo slot per le sim, uno slot che offre ben tre spazi a disposizione. Abbiamo infatti due slot dedicati alle sim in formato nano, con possibilità di navigazione in 4G su entrambi gli slot ma non contemporaneamente, oltre a un terzo slot che vi permetterà di inserire una micro SD che andrà ad espandere la memoria integrata, con supporto fino a un massimo di 256 GB. Sotto a questo slot abbiamo un ulteriore pulsante e qui è un'altra piccola chicca che fa apprezzare questo dispositivo. Infatti questo tasto è programmabile e in generale abbiamo tre funzioni, ovvero con un singolo clic possiamo andare a richiamare delle funzioni speciali, tra cui quella proprio del termometro. Con un doppio clic oltre alle funzioni speciali possiamo andare a richiamare anche determinate applicazioni come Whatsapp, Youtube eccetera eccetera, ma abbiamo un'ulteriore terza possibilità che è quella di tenerlo premuto e quindi andare a richiamare tutto quanto vi ho detto fino adesso e quindi praticamente avere ben tre soluzioni differenti per andare a ampliare le funzionalità del vostro smartphone. Sul profilo inferiore invece troviamo il microfono principale ed unico di sistema, abbiamo poi l'ingresso USB Type-C che ci permetterà la ricarica del dispositivo ma anche il supporto OTG per andare eventualmente ad associare le chiavette, mouse, tastiere e quant'altro. Infine abbiamo lo speaker di tipo mono, uno speaker che ci offre un suono non propriamente bilanciato su tutto lo spettro di frequenze sonore ma che offre comunque un ottimo volume, piuttosto generoso volume d'ascolto e quindi fa il suo sporco lavoro in condizioni dove l'ambiente è comunque ricco di suoni e quindi non ci permetterebbe di ascoltare magari della musica o eventualmente delle chiamate. Ad ogni modo con il jack delle cuffie in dotazione potete sfruttare i vostri auricolari e quindi andare a migliorare la qualità sonora del dispositivo. Il servizio di supporto per gli acquisti effettuati su Veri Mobile ti dà il benvenuto. Secondo me correrete direttamente al link in descrizione per effettuare l'acquisto ma detto ciò direi di non perdere tempo. Tornando sul posteriore abbiamo un sensore per impronte digitali quasi a filo scocca che devo dire si è comportato sempre molto molto bene anche se la rapidità di sblocco non è proprio delle migliori ma invece è molto più rapida e molto più efficiente lo sblocco che avviene tramite la camera selfie quindi abbiamo tranquillamente la possibilità di sbloccare il nostro dispositivo tramite l'unlock face anche in condizioni in cui il buio diventa piuttosto intenso. E venendo quindi al frontale ci troviamo di fronte ad un display con risoluzione HD plus ovvero 1600x720 pixel con una diagonale da 6,53 pollici in formato 29. Si apprezzano le cornici che non sono proprio proprio pronunciate almeno rispetto alla concorrenza presente sul mercato ma purtroppo una nota negativa è riguardo la luminosità non tanto ai sensori dove è presente quello di luminosità e prossimità che invece lavorano molto molto bene ma piuttosto proprio alla luminosità vera e propria del display che sotto luce diretta del sole tende a faticare un po' la leggibilità del display. Ad ogni modo nonostante la sola natura HD plus e quindi non un full HD pertanto scordiamoci le certificazioni Wideband di livello 1 quindi per visionare contenuti in streaming su piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video eccetera eccetera beh lui devo dire che comunque svolge egregiamente il proprio lavoro andando quindi a permettere una visione multimediale a tutto tondo piuttosto appagante. Abbiamo colori piuttosto brillanti e abbiamo comunque la possibilità del Miravision che ci permetterà quindi di andare a tarare temperatura e contrasti del display. Insomma ho un display senza infamia, senza lode che ad ogni modo può essere sfruttato a tutto tondo grazie anche alle gesture di navigazione a schermo, questo qualora non vi piaccia la navigazione tramite i pulsanti di sistema, una barra che comunque può essere invertita nell'ordine o appunto nascosta e sfruttare le comode gesture a schermo. Il display comunque si distingue anche per un notch a goccia centrale dove è integrata la camera selfie che appunto offre anche lo sblocco con il volto. Vi ho già parlato dei sensori di prossimità e luminosità che lavorano piuttosto bene ma purtroppo devo dire che è assente un led di notifica e questo potrebbe essere una grave mancanza per molti di voi. Personalmente non lo ritengo un grosso difetto ma in molti so che lo cercate questo led e quindi vi faccio presente che lui non lo integra. Buona invece la capsula auricolare con dimensioni piuttosto ampie e che offre un suono piuttosto cristallino in chiamata e devo dire che proprio per quel che riguarda la recezione e la navigazione non ho trovato particolari problemi anzi mi sono anche piuttosto sorpreso. Certo non parliamo di valori esagerati ma devo dire che con la mia sim del mio operatore quindi Veri Mobile ho sempre sfruttato appieno la massima velocità di navigazione messa a disposizione proprio dall'operatore. Quindi ho sempre navigato in maniera fluida non ho mai avuto perdite di segnale e insomma sotto questo punto di vista Umedigi A9 si comporta molto molto bene anzi anche meglio rispetto a tanti dispositivi molto molto più blasonati. Il cuore pulsante di Umedigi A9 invece si compone di ben 3 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4X di tipo dual channel e abbiamo anche 64 GB di memoria interna purtroppo eMMC 5.1 questi espandibili però con micro SD fino a 256 GB. Abbiamo poi la CPU Mediatek Helio G25 una soluzione octa-core con struttura Cortex A53 che offre un clock di picco fino a 2.0 GHz mentre la parte grafica è affidata alla GPU Power VR8320 fino a 650 MHz. Tutto questo per dire che Umedigi A9 appunto è un dispositivo economico non abbiamo un hardware chissà quanto spinto ma per l'utilizzo quotidiano lui va più che bene vi permetterà tranquillamente di svolgere tutte le classiche operazioni che andate a chiedere a un qualsiasi altro smartphone quindi navigazione, social, messaggistica, vedere video su YouTube, streaming e quant'altro e volendo anche un po' di gaming. Non mi sono spinto con gaming come Call of Duty Mobile perché tanto il frame rate sarebbe stato talmente basso che non avrebbe senso ma d'altronde questo non è un dispositivo annato per il gaming ma un dispositivo annato per l'utilizzo di tutti i giorni e lui sotto questo punto di vista è davvero affidabile complice anche il fatto che integrato abbiamo l'ultimo sistema operativo di Android ovvero Android 11. Purtroppo invece le patch di sicurezza sono ferme a dicembre al netto comunque che dal mio utilizzo ho già ricevuto ben tre aggiornamenti. Questo significa che l'azienda al momento sta dietro agli aggiornamenti ma forse poco meno per quel che riguarda l'ambito della sicurezza quindi se acquistate questo smartphone non aspettatevi sicuramente un passaggio ad Android 12 ma tantomeno alle patch di sicurezza. E in un certo senso passatemi il termine per alcuni potrebbe anche essere in realtà un vantaggio perché in genere chi si avvicina a questi dispositivi così economici cerca piuttosto affidabilità non tiene agli aggiornamenti tanti non sanno neanche che lo smartphone si aggiorna e quindi andare a pacioccare con aggiornamenti e quant'altro per alcuni potrebbe essere invece stressante. Mentre lui nasce così nudo e crudo con un sistema operativo che funziona a meraviglia non riporta alcun bug e quindi perché andare magari a sporcare quell'esperienza d'uso beh a conti fatti UMIDIGI A9 ripeto è un dispositivo davvero davvero essenziale e soprattutto funzionale anche perché a livello di connettività abbiamo un ottimo gps che si appoggia anche ai satelliti galileo abbiamo la radio fm sfruttabile unicamente tramite le cuffiette e abbiamo anche un bluetooth 5.0 un wifi a doppia banda e appunto il supporto pieno alla banda 20 quindi tranquillamente potete utilizzare lo smartphone con qualsiasi operatore nazionale. È vero manca l'NFC ma torniamo un po' a bomba al discorso che facevamo prima chi si avvicina a questi dispositivi non sa neanche che è possibile pagare magari con lo smartphone e quindi senza tirar fuori la propria carta di credito o bancomat e soprattutto per il prezzo cui costa lui beh difficilmente troverete altri dispositivi che integrano l'NFC o che comunque siano perfettamente funzionali come invece lo è lui. Ma veniamo a uno degli aspetti che sta più a cuore all'utente in generale che sia un utente premium o che sia un utente entry level ovvero il comparto fotografico e UMI DIGI A9 sul posteriore ci offre una tripla fotocamera con sensore principale da 13 megapixel un obiettivo a 6 elementi con apertura focale f1.8. A questo si accompagna un'ottica ultra wide da 8 megapixel con apertura di campo di 120 gradi oltre che un sensore di profondità da 2 megapixel e nel complesso le fotografie in condizioni buone diurne quindi di ottima luminosità vengono piuttosto bene ed accettabili. Anche per quel che riguarda la fotocamera ultra wide mi sarei aspettato qualcosa di peggio e invece tutto sommato le foto non vengono con quella berrazione diciamo sui profili e quindi l'effetto fisheye non è presente anzi abbiamo delle foto piuttosto piacevoli. Certo in condizioni notturne invece la diciamo il fianco degli obiettivi e quindi dei sensori viene fuori al netto anche della presenza però di una modalità notturna che non va proprio a incidere più di tanto sulla qualità finale della foto. Per quel che riguarda i video possiamo girare ad un massimo di 1080p a 30 fps dove purtroppo l'assenza di stabilizzazione si sente eccome ma ripeto tornando abbomba un po' a tutto il discorso d'altronde chi si avvicina a questi dispositivi ma in generale chi spende poco non può pretendere di portarsi a casa un camera phone. Però umidigi A9 nel complesso è più che promosso per quel che riguarda proprio le performance fotografiche e video anche perché i microfoni proprio durante l'acquisizione video sono davvero ottimi. Sul frontale possiamo invece contare su una fotocamera da 8 megapixel un obiettivo a 5 elementi con apertura f 1.8. Anch'esso può girare video a 1080p a 30 fps e bene o male valgono tutte quante le considerazioni che abbiamo fatto anche per gli altri sensori posteriori. Per quel che riguarda il software è piuttosto basilare però abbiamo comunque dalla sua comunque l'integrazione dell'intelligenza artificiale che in determinati scenari va a migliorare sensibilmente la fotografia. Purtroppo invece è assente l'HDR automatico ma è presente comunque la possibilità di andarlo attivare o disabilitare oltre che la possibilità di effettuare delle foto in modalità ritratto che devo dire sono rimaste o sono risultate piuttosto piacevoli. Ma veniamo al dunque ovvero al sensore infrarosso che ci permetterà di rilevare la temperatura. Io non so dirvi la bontà effettiva vera e propria di questo sensore posso portarvi però a quella che è la mia esperienza ovvero in condizioni standard lui ha dato delle misurazioni sempre in linea con altri termometri ad infrarossi che avevo a casa. E soprattutto quando ho fatto il vaccino anti covid perché ho fatto il vaccino anti covid e sto aspettando il richiamo beh uno delle prime conseguenze è stata una leggera febbriciattola e lui è riuscito comunque a rilevare questo innalzamento di temperatura. Quindi per quel che mi riguarda il suo funzionamento è garantito. Certo non è un dispositivo medico certo non mi affiderei troppo alle sue rilevazioni ma ad ogni modo può darci sempre quell'indicazione un po' proprio come fanno i vari indossabili per quel che riguarda il valore sp o 2 e quindi se tanto mi dà tanto magari la combo smartwatch smartphone diventa davvero essenziale proprio in un periodo di pandemia come questo. Stavo quasi dimenticandomi un altro degli aspetti che in molti ricercano su uno smartphone ovvero l'autonomia e un midi G9 si affida ad un'unità da 5.150 mAh che si ricarica in maniera rapida a 10 Watt. Ricarica rapida per modo di dire perché per passare dallo 0 al 100 impieghiamo tramite il proprio caricatore all'incirca 3 ore ma ad ogni modo posso dire che invece l'autonomia in generale beh vi porta tranquillamente a due giorni due giorni e mezzo anche con un utilizzo piuttosto stressante e quindi lui sotto questo punto di vista è davvero un campione di autonomia che non mi farei lasciar scappare. E direi di giungere alle conclusioni per questo midi G9 un dispositivo che costa intorno ai 100 euro euro più euro meno e naturalmente qui sotto in descrizione troverete tutti i link per la migliore offerta dove andare a reperire proprio questo smartphone e a questo prezzo che dire ragazzi è sicuramente un dispositivo consigliato perché offre tutto quello che vi occorre per una giornata d'utilizzo. Avete un'ottima autonomia e avete anche quella funzione in più che in tempi di pandemia insomma non guasta. Lui è affidabile per quel che riguarda il software non tanto gli aggiornamenti ma il software nudo e crudo perché a conti fatti abbiamo una versione di Android stock salvo qualche personalizzazione e abbiamo anche le chicche legate al tasto programmabile. Insomma un dispositivo che nel complesso fa il suo lo fa bene e soprattutto lo fa ad un prezzo davvero bassissimo. Quindi se state cercando un dispositivo da regalarvi o da regalare e soprattutto che sia affidabile un midi G9 è sicuramente un pensiero su cui dovete puntare. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao! Ciao!